Sì, è sicuro? Cos'è questo posto? Per un hamburger? Ci daremo passare la notte? Io direi che... Sì, sì. Dai, lei, i ragni hanno 8 zampe. Perché? Perché? Perché avevano 8 camminanti. Buongiorno. Oggi fate il mio bunker? Niente. Come niente? Siete entrati e avete bevuto i miei codici. Come avete fatto a sopravvivere? Abbiamo mandati lui, vero? Abbiamo mandati lui. Chi lui? Capo degli alieni. No, non ce ne vanno da nessuno. Beh, allora il mio nome è fretta. Questo posto è mio. Non ce ne vanno da nessuno. L'avete sparato, vero? Sì. Cos'è questo? Pezzatore delle telecamere. Stanno arrivando. Ancora. Andiamo, l'uciderli. Dani. Aspetta giù qua. Grazie a tutti.